Salve a tutti figli del cazzo, siamo qua nella nuova puntata di questo gioco, con me c'è il nostro caro amico, Marco Cigoli, Mauro Sandriani, Allianz, Allianz, non c'è nessuna Wi-Fi Allianz, non esiste, Allianz, Allianz sono cacciato dentro di frigio, ragazzi Crazy Joker, E io PS2 trattino russescio, PS2 russo forever? Salute pure a te, vuoi continuare, questa è la? Cazzo nesso, è una partita che devo fare, è la? 1 e 2, 2, due parti, due parti, dove parti e vado a Roma, Ragazzi, la seconda parte, hai una partita salvata in corso, che devo fare, no sì? Allora, se vuoi vederti il menù, fai no, se vuoi fare la missione devi fare sì, detto in maniera papale papale Ah, vabbè facciamo sì, va meglio dai Ragazzi, preparatevi a 300 morti di PS2 del russo forever Non prendi le competenze tu, eh, brutto italiano del cazzo La Russia mi sta andando in testa Non solo quello, anche il gioco con la chiave Ma quello può mai cogliere Ah ragazzi, ricordo che lo continueremo, PS2 è rimasto contento dell'ultimo episodio di quello con la chiave, mi è piaciuto molto, lo farà, tranquilli Ragazzi, mi scuso ma l'audio non si sente, chiedo umilmente scusa Come cazzo? Abbiamo messo i sottotitoli ragazzi, guardate, il volume è a 40 Perché carichi il brutto figlio di cacca? Eh, lo sapete Muore E PS2 sta per morire Ragazzi, certo il contesto storico di questo gioco non è delle migliori Però è l'unico che ho disparato, tu ricordo L'unico Anzi, ce n'è un altro ragazzi che si chiama Frontline Lì, Medall of Honor Però è durante la seconda guerra mondiale, ma PS2 mi ha detto proviamo questo Vabbè ragazzi, è la buona mira come al solito Ormai, ormai ragazzi, è sottintesa Ecco Ma dai, ciao Eh, sto ammazzendo le altre Qualche c'è un buono Ragazzi, ama questo mitra PS2, vero? Ha fatto un'espressione il nostro caro amico russo Non si chiama russo ragazzi Il suo nome vero è PS2 forever Perché spari i tuoi alleati? Se li spari poi muoiono e devi rifare il gioco Ma perché mi muoiono solo? E questo conviene che unico Perché spari sprecando proiettili? Ma sono inevitato Spara comune Muori il figlio del cacca Finalmente ragazzi Non mi ricordo come si cambia l'arma Come si cambia? Prova un pulsante Ecco Se premi due volte usa la pistola Però è meglio un fucile di precisione Essendo da lontano Sono a destra Ragazzi scusate Cerco attraverso l'enciclopedia Che specie è PS2? Scusate Qui è da cacca Che stai facendo? Prese il testo Gioca Un attimo Sto affondendo l'enciclopedia Ragazzi sto cercando un attimo Adesso l'enciclopedia Che specie è Ecco ragazzi ho trovato La scimmia urlatrice Ecco che specie è Infatti ragazzi c'è scritto Che mette uno dei suoni Più forti del regno animale Eh ragazzi Vedendo il linguaggio E la voce di PS2 Direi che è proprio Una scimmia urlatrice Mi sa ragazzi Che gli farò cambiare L'icona del canale Ci metterà una scimmia urlatrice Vero PS2? Vai dai Sì ragazzi Lo vuole Quindi a breve Cambieremo l'immagine Metteremo una scimmia urlatrice E si chiamerà scimmia forever Buone qui Oppure urla forever Cassarola Cassiopeia Che cazzo è? Passa 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 Aiuto! Ecco qua ragazzi, scusate, si è proprio la scimmeloratrice che ho controllato. PS2 cosa mi sono perso? Ragazzi questo è un dispositivo che permette di segnare un bersaglio affinché le forze aeree possono bombardarlo. Come si segni? Osserva PS2. Non hai fatto niente, è solamente indicato un bersaglio. Pace! S2 mostra rispetto per questo personaggio che è in persone, perché ragazzi avrà un ruolo importante nel corso della storia, nel corso del gioco ragazzi. Se volete sapere il finale ragazzi, osservatevi la serie e ricordo che chi... c'era l'icona. Ragazzi vi ricordo inoltre che chi spoilera i giochi che portiamo sia in live sia come video o chi spoilera il contenuto dei giochi ragazzi, verrà bannato e cacciato. Lo ricordiamo ragazzi. Perché in una precedente live avevo detto che portavo dopo Arkham Asylum Arkham City. C'è stato un iscritto che, neanche dire giustamente, ha spoilerato il gioco ragazzi. Lo so che è uscito cinque anni fa, però è meglio non dirlo ragazzi. Se no che lo portiamo a fare un gioco se già sapete che fine fa. O no PS2. Vero, vero. Quindi ragazzi siete invitati, anzi siete obbligati. Scusatemi, ecco. Che cosa è successo? Ragazzi subito un like perché è morto PS2 come vi avevo detto. Che è successo? Eri mezzo ferito. Io cos'ho detto quando sei ferito... Non ero ferito. Eri ferito, eri ferito. Eri ferito. Quando sei ferito non devi andare all'attacco che ti uccidono subito. Ecco stai facendo già una postazione bruttissima e caccia questa cavolo di pistola. Hai un mitra. C'è l'icona. E siamo a due ragazzi come avevo detto. Non ho messo l'icona, cazzo. Devi guardare, c'era l'icona rossa. Proprio il rosso l'avevo fatto. Ragazzi come ho detto all'inizio vedete che morirà sempre. E avevo ragione. Ve l'ho detto. Ma basta, cazzo. E poi con questo cavolo di pistola. Cioè hai un mitragliatore. Hai un fuggire da cecchino. Cioè io non lo so. Arriverà la terza morte? Un coltello finisce. Quindi ragazzi stavo dicendo. Ma poi hai anche il coltello. Usalo quando sei da vicino. Però non andare l'incontro se ne hai cinque davanti. Hai un... ecco usa il mit. Se poi muore la terza volta ti freghi. Ragazzi quindi stavo dicendo ragazzi. I giochi... ecco quando sei ferito c'è sangue. Ti devi aspettare che se ne va. E poi attacchi. Sono loro. Esci e ti uccidono con un colpo. Bello ragazzi che ho tre passoni i muri. Ragazzi quindi stavo dicendo che chi... Anzi dirlo 2x2. Chi spoilerà i contenuti dei giochi verrà? E' morto. Verrà morto. Verrà morto. No ha detto morto questo. E dirlo. Che succede e a chi spoilerà i contenuti? Verrà ucciso. Verrà ucciso. Verrà ba? Ah bannato. Ecca? Ciotto. Lì è del calco. Quindi ragazzi... Anche se questo avviso ragazzi è rivolto a un iscritto in particolare. È rivolto. Che come ripeto nell'ultima live ha spoilerato il finale del gioco di Arkham City ragazzi. Che io non vi dico. Perché ragazzi se voi sapete i contenuti allora non lo portiamo ai giochi. E finisce lì ragazzi scusatemi eh. Che li portiamo a fare se voi già dite eh ma finisce in questa maniera. Allora non lo portiamo ragazzi basta ve la giocate da sole. Noi portiamo i video per farvi vedere come giochiamo. Io bene PS2 da schifo. Però ragazzi se ci sono alcuni iscritti stupidi scusatemi ragazzo voglio dirlo. Che vanno a dire ai quattro vendi cosa portiamo. Come finiscono i giochi. Che giochi portiamo cioè. Non lo so ragazzi vediamo vediamo il canale ve lo diamo a voi lo portate voi. Ah è fatto. Ecco come fa. Quindi ragazzi mi rivolgo a questo iscritto particolare. Cerca di non dare informazioni ma è rivolto anche a tutti ragazzi. Causa ban. E cacciata via dal canale ragazzi. Dobbiamo essere seri. Non so che questo iscritto lascerò un non mi piace o non commenterà. O commenterà brutto però. Vi invitiamo inoltre ragazzi ora mi sono ricordato di limitare il linguaggio. Nei commenti del gioco. Nei commenti dei video ragazzi. Anche nella live. Anche se nei video non lo fate ragazzi. Però continuate a non farlo. Ecco. Qua c'è un brutto. Vai sopra no? Ragazzi detto questo. Cerchiamo di notare PS2 che è morto già due volte. Perché non si vuole. Parla figura in me. Non si vuole niente. Ragazzi inoltre spiego questi minuti per ringraziarvi tutti. Vi ringrazio per essere arrivato a 50 iscritti ragazzi. Vi ringrazio con tutto il cuore. Ringrazio onestamente. Giustamente ringrazio gli iscritti più costanti. Mi hanno fatto spaventare. Chi è la dici? Usa pure la bomba. Tieni premuto R2 e poi la lascia. No? Lancia una bomba. Mira in alto e poi la lancia. Beh di loro te le lancia e le lancia pure tu. Ecco sei ferito. Hai visto? E vai all'attacco. Ricaricate. Ragazzi dicevo. Vi ringrazio con tutto il cuore ragazzi. Di essere raggiunto questo traguardo ragazzi. Io sono come uno youtuber che mi accontento di poco ragazzi. Per me già 20 iscritti è un traguardo. Io non sono quelli che... Io non sono uno che cerca di raggiungere i 100, i 200 iscritti. Ma mi accontento di poco. Ragazzi stoppiamo due minuti. Ragazzi. Purtroppo il video deve concludersi qui ragazzi. Perché la missione è molto lunga. Un ravevo. Un ravevo il cagato. Un ravevo. Un ravevo. Un... Un ravevo. Un ravevo. Rści si è spaventato ragazzi. No. Mi sono qualcuno oppure. PS2 si spaventa degli aerei. Ragazzi vedono che ho il PS2 il cagasotto. No, non è il calcato sotto, è il calcato sotto, ecco, che caso è? Ho fatto calcare il super star, ecco ho un mitra e io cammino come un cogliale come c'è la poma, ma dove devo andare il calzaro? Segui i tuoi compagni, ecco, questo è brutto, questo è, eh, zio, joker, Ragazzi, vi immaginate che qua usa la pistola per sparare da lontano? È proprio il colmo Grazie Se per finire le munizioni chiedere al tuo alleato Eh, quando ci valga C'è il cecchino, lo vedi? È finito quasi le munizioni Che è il mio? Come va, hai le mie munizioni? Ricarica Il caldo armi Ricarica Vabbè ragazzi, sono ovunque i nemici Ecco, il vestito ci va diretto, ci va ragazzi Ragazzi, ecco, come bloccarsi in una posizione? Come uscirà? No, sono bloccato, no! Ragazzi Sticcato Cioè ragazzi, usi il fucile da cecchino da vicino E il mitra da lontano Per farvi capire Non toccare i miei compagni È a destra, non l'hai visto, guarda dov'è Ah, dietro Guarda, guarda dove sono Ecco ragazzi È ferito e si espone Quante volte gliel'ho detto ragazzi Non lo dico più ragazzi Guarda dov'è uno E l'ho visto ora E l'ho visto ora, porca puttana Ehi, va, va Va, va Devi fare il giro contro la mitragliatrice Buona mea Ah, non c'è Chi è? Ah, ciao E ora? Deve andare Sono bloccato, porca puttana Ah, non c'è Per me è meglio Tu eravanzi col mitra Puoi trovare dei nemici Qua davanti Alla passarella Alla passarella Alla, la vedi? Te l'hanno pure detto La bomba Ma guarda le icone Porca zozza Ricarica 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 da esposto Mi raccomando Fatti vedere Quando ricarichi Ti devi nascondere Ma perché devi andare davanti ai nemici? Perché ragazzi? Perché? Va, va Ragazzi La seconda parte di Medal of Honor Finisce qui La prima è finita in maniera benevola Questa no Finisce con PS2 morente Con la mano, come vedete, a terra La tua recensione sul gioco PS2 Bel gioco Ma riporteremo questo gioco porto Sì ragazzi Lo continueremo Devo fare questo gioco Perché io questi figli di Russi Continueremo il gioco con la chiave State tranquilli Mi raccomando ragazzi Approvate il mio punto di vista ragazzi Che vi ho spiegato Detto questo Dai vostri amatissimi Riesa 2 Trattino Forever Trattino Russo Trattino Italiano Trattino Polilinguista Trattino Tutte le lingue E da un crazy joker indignato Da un crazy joker indignato Lo suo gameplay Ragazzi Una mira completamente da schifo Smettere di fare il DJ Perdono E da un crazy joker indignato Direi che è tutto Crazy joker E il rosso E il rosso Ragazzi Muerto solo Le vostre amatissime Cucu E se dove farebbe E crazy joker E tutto Ciao Ciao ragazzi Ciao 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 Ciao